Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantoci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me? La corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca! 92 minuti di applausi! Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi tornano al cinema restaurati in due caffa. Va di subito a comprare il biglietto alla cassa! Come umano lei! Molto umano c'è!